Chieti dice no ai rifiuti dell'Aquila se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, ma l'assessore all'ambiente del comune Fabrizio Taranta per ora non dà conferme. La problematica è da risolvere comunque a stretto giro, vista la situazione di stallo del Cogesa, che deve rinnovare il CDA e superare i problemi interni. Il Cogesa è il consorzio di comune della Valle Peligna che gestisce la discarica di Sulmona usata dall'Aquila. Il sindaco di Chieti Ferrara chiude le porte o almeno così sembra questa possibilità. Se dovesse diventare una necessità, il condizionale è d'obbligo. I problemi tra l'Aquila e Sulmona sarebbero venuti fuori qualche settimana fa. Il Cogesa ha chiesto un aumento della tariffa, il CDA come è noto è stato sfiduciato. C'è un amministratore unico, Franco Gerardini. I 110 euro a tonnellata pagati dall'Aquila sono considerati pochi. L'Aquila ha una differenziata alla percentuale del 39% e vorrebbe rinnovare la convenzione a 117 euro circa. Ad oggi l'intesa non c'è, ma fioccano pure le polemiche perché il sindaco Pierluigi Biondi già ha denunciato un clima anti-aquilano, sostenendo che il Cogesa si regge con i soldi dell'Aquila. Il primo cittadino sulmonese Gianfranco Di Piero è invece insistito sui costi fuori mercato che vorrebbe l'Aquila. Qui spunterebbe l'ipotesi Chieti con la discarica a Casoni gestita dalla Deco che è società privata non confermata da Taranta. L'assessore continua a dire che Sulmona è la prima scelta. Noi stiamo rispettando, abbiamo rispettato fino alla scadenza il nostro contratto, abbiamo chiesto una proroga tecnica per continuare a scaricare in questo periodo alla discarica di Sulmona. Lo stiamo facendo finché ci verrà permesso ovviamente continueremo a farlo. Noi siamo per continuare questo rapporto che è sicuramente vantaggioso per tutte e due le parti. Il Cogesa ha bisogno dei rifiuti dell'Aquila, questo credo sia evidente a tutti. Le condizioni offerte sono anche vantaggiose per il Comune dell'Aquila quindi mantenere questa situazione è sicuramente vantaggioso per entrambi. Non voglio entrare in polemiche se c'è qualcuno che pensa che l'Aquila non debba scaricare magari per questioni politiche o campanilismi di corta veduta e corto raggio. Noi non vogliamo entrare in queste polemiche. Abbiamo un contratto, abbiamo onorato il contratto fino a qualche giorno fa. Lavoreremo affinché questo contratto possa essere rinnovato. Ovviamente se ci saranno le condizioni, condizioni che devono garantire entrambe le parti. Come in tutti i rapporti si va avanti se c'è la volontà da entrambe le parti. La nostra c'è speriamo che ci sia anche da parte di alcuni membri del comitato di gestione del Coggesa.